E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Bistecca Ed oggi, signori miei, ci troviamo per la prima volta sul canale sulla modalità zombie Avevo voluto portarvi magari anche un video di zombie su Black Ops 3 Però ragazzi, ancora, almeno, per come la vedevo io non era il momento Adesso comunque vedo che COD è abbastanza apprezzato e quindi ho deciso di portare la modalità zombie Anche se comunque siamo su Infinite Warfare Allora, non fare una partita pubblica, sicuramente, anche perché sono da solo Quindi non voglio morire trucidato in solitudine Preferisco comunque giocare sempre in più giocatori Online va benissimo E dunque, andiamo a vedere chi ci capita Speriamo gente che comunque un minimo sappia giocare Non che io sia un fenomeno ragazzi, assolutamente Sono un giocatore più che normale di zombie A me piace, però non sono un campione Cioè nel senso, me la cavo Ma conosco gente molto più forte Comunque, qualcosa la so fare, ecco A Orienne mi fa già temere per il male Livello 5, non ha neanche cambiato il biglietto da visita Non è che si inizia proprio bene, eh Dai Speriamo ci capiti gente migliore Con i biglietto da visita zombie come sto messo Fate abbastanza, non c'è male Mancano la metà 16 su 31, me ne manca esattamente la metà Ma va bene C'è sempre solo Rien Ciao bello Ragazzi cerchiamo un'altra, se no qui ci stiamo una settimana Ah, ora siamo in tutti Anton Turkan Ecco L'unico mistale simpatico è uscito Comunque abbiamo anche The Walkyria Ci manca il quarto uomo Chi era Quell'altro Pazzo che è uscito Era anche italiano tra l'altro Vabbè anche Alemamba95 ci sta bene Penso sia italiano pure lui Quindi Ragazzi, va benissimo Tutti abbastanza di livello alto Quello con il livello maggiore sono io Quello con il livello più basso Anton Turkan Comunque al 12 Non c'è male Se fa che almeno un po' ci ha giocato E dunque Eccoci al parco divertimenti Mie che tanto divertimenti Sì Andiamo con il bomberone Questo ragazzi è il mio presagio preferito Tira cazzottone mega super mega iperignoranti Quindi siamo a posto Ovviamente Hailstorm Che con questa ci facciamo 492 round Almeno spero E ragazzi Il nostro obiettivo Da fare in partita pubblica Sarebbe Quello di Non lo so Arrivare a Fare almeno una delle 4 armi Gli streggan Chiaramente A parte non lo so fare Meglio Gli step li conosco ma Diciamo In singolo Con 4 zavorre Non è proprio il massimo Cioè in singolo Con 3 zavorre Non è proprio il massimo Comunque Le armi Le so fare abbastanza bene Dovrei Essere capace Di farle Senza problemi Anche se comunque Siamo In 4 Di cui Con 3 Non posso parlare Però Dovrei Riuscire comunque A farcela A farne almeno una Faremo magari il discord Che mi sta più simpatica Di tutti O meglio Uno dei più semplici Da fare Che comunque Anche per le monetine Quella è più Più facile Allora Prima cosa da fare Mettere la testa Del robottino Nel robottino Nella prendite Bravo Grande bomber Ah ho preso anche l'ombrello Per il seticom A caso ragazzi Non Tanto non lo faremo mai Cioè nel senso Che 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 fasto Scemo sto pazzo Colpo a corpo Bene Allora Mori Mori Anche se Qui c'è nessuno No Di qua Nessuno Qui Ah Qui c'è uno Perfetto Qualcun altro Se ne vedono pochi Molto pochi Eh no Pensavo si fosse fermato Ho visto che non stavo facendo niente Dubbo che è morto E Finita la sfida Subito i primi billetti 35 Andiamo a 65 La cassa Che comunque Non faremo subito È Su Esatto Su polar peak Vabbè Iniziamo 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 Per me Può Può venire dove Più gli piace Tanto non mi interessa Affatto No Oh Oh via Liberiamoci anche di questi ultimi 8 colpi Del kendall E poi passiamo alle storm Esegui 5 multiple soldi doppi Attenzione mi servono zombie Mi servono tanti zombie 2 3 Mori Vai giù Vabbè Bottino soddisfacente Abbastanza Qui Finita la riparazione Perché la gente Blocca le sfide Tanto Sa che quella delle multiple Non si fa subito Perché rompe i coglioni Non la bloccare Tanto non serve Mannaggia Mannaggia Buona munizione massima Noi abbiamo De nuove munizioni Per il kendall Che non serve Una beata minchia Mettiamo sempre i soldi Credo di essere L'unico che mette I soldi Però Va bene Lo stesso Noi ragazzi facciamo il nostro Poi agli altri Ci penseremo C'è qualcuno Sì Ciao bello Vai giù vai Mori vai 1 2 1 2 Ecco E poi arriva questo Che Senza una logica Li Devasta tutti Eh ragazzi Ci ho pazienza con questi Ci ho pazienza con sta gente Voglio provare a targli due affiche E vedere se Non va giù meglio 2.000 ce l'abbiamo Guarda che stai cretini Sono proprio scemo eh Questo me lo prendo io Perché mi servirà per dopo Ma guardatelo Noi vabbè ragazzi Non c'è storia Non si può ragionare con sta gente Ma va Dai uccidere Oh che lo uccidi Mannaggia quanto ci vuole qui tutte le volte Mettiamo i soldi E apriamo la porta Dai Anche i face melter ragazzi Non si sarebbe male da fare Però Una scocciatura E' abbastanza una scocciatura Farlo Detto Il più facile da fare E' veramente il coso Come si chiama Il disco Che Vabbè Perché penso Ma perché Per chi non lo sapesse E' un'arma Delle quattro assemblabili Quella La terza Delle quattro armi Oddio Terza delle quattro armi Che si possono fatti Che cacchio di rumori strani fai Ogni tanto Il robot Fa dei rumori Alquanto ambigui Lui è spappolato Sì l'ho preso Ah ma c'è un altro Fantastico No Come è fallita la sfida E' sempre le solite storie Sempre da sola A fare le cose Mi lasciano sti stempiati Mannaggia Accidenti a loro Temori Eh utile Sì utile Le munizioni infinite Vabbè oddio A un certo senso Sì ragazzi Perché possiamo usare il candle Quindi Facciamo soldi All'infinito Ai 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 Oh Buono Hanno già aperto? Sì Ha attivato la corrente? Ma non credo Eh ti pareva Mai una volta Che faccio una qualcosa Eh sì Eeeh Ma col cazzo Che accendo la corrente Vero? Ma bravo Ma quanto sei forti Ce la fai? Bravo Ah Che benessere Ragazzi Mamma mia Uno Due Due Ho detto Si fa prima a far così Eh non voglio morire Certo A sto round Inutile Due E vai giù Che mi ci devo butta io? Ah no Lui fa il cosa Fa il face melter Bravo Bravo Si sta rendendo utile A fare qualcosa Non ci credo Mori Dai che ce la fai Dai bomberone Sei un coglione Sei proprio un coglione Oh Mamma mia Mamma mia Che gentaccia Te mori Sì raga Oh Ci sta capitando benissimo Con le munizioni Ne abbiamo una valanga Questo non ha capito Una minchia E allora fai tutto Se io non sparo più niente Perché ragazzi Tanto se questi Sono duri Ci si può Eh no Ci si può far poco Allora Prima cosa da fare Subito andare a aprire Questa zona Così Ci attiviamo la corrente Bella E Boh Io ragazzi Inizio a fare un po' di punti Tanto Non abbiamo niente da fare No Proprio sfortunati Ah ci sono i clown Ora Bisogna stare attenti Questi ci fanno Saltare in aria Ma no Ti faccio schifare sto gioco Belli Ci sono Ci sono tanti clown Sì Sono forti No ma me l'avevano detto Una volta Sì Certo mister Sei veramente un campione No no Ma sei proprio forti Eh ragazzi Cioè sono veramente Un fenomeno Doi rimbalzare No vabbè Non ci credo My clown Esistono No Bene Cinque Mai una gioia Niente La Un Dai Ma nel c'è qua Sì Ce l'abbiamo fatta Raga Incredibile Incredibile Ma che dovrebbe essere Andato fuori uso Voi cosa fate Sì fuori uso Va bene Allora Possiamo Anche entrare nel portale Vai Va bene Qui al Kepler hanno messo qualche soldo Ma sia mai Su Polar Qualche centesimino Niente Ragazzi Questi non spendono Non spendono un euro questi Fanno schifo Fanno Mamma mia Eh che gente Che gente marcia Biglietti siamo a 261 Buono E dove iniziamo Dove iniziamo Non lo so Possiamo partire A mettere i soldi Su Kepler Ragazzi non lo so Chi mi sta nascendo dietro Ma va arrivata Tre E una mazzolata Due No tre Quante tu ne hai? Oh eccoci Marema miseria Non ce ne va bene una ragazzi Lo sempre Non so più quante volte ho detto Iniziamo a mettere soldi Ci marco ancora Duecento Duecento Quaranta Due Tre Buono Ancora non abbiamo finito Uno Due Tre Quattro Va giù Eh vabbè Ah A posto Vai Apriamo anche qua Cos'è si ragazzi Ragazzi Invece Ci possiamo fare Led cutter Che è anche Più semplice Più veloce Da fare Sì sì Quasi quasi Facciamo quella Ah già serve Energia è vero Giustamente anche Direi Tanto Questa cosa è spento Te vai giù Te vai giù Qui ce n'è uno Che va giù Dai che non ci manca tanto Ancora un altro po' di soldi E poi possiamo aprire Dai Fatevi trovare Fatevi trovare Zombie maledetti Mai ce ne fosse uno Niente Grazie a tutti